Passiamo adesso agli eventi Montepruno Day il prossimo 18 maggio che si terrà con una tavola rotonda e saranno presenti anche la BCC di Aquara, Buon Abitacolo e Sassano. Il Montepruno Day pertanto metterà in luce alcuni concetti da sempre promossi dalla Banca Montepruno come la valorizzazione della rete, la diffusione del lavoro di squadra, la condivisione dei risultati e la volontà di crescere insieme al territorio. I dettagli nel prossimo servizio. Il 18 maggio all'interno del Montepruno Day verranno celebrati i brillanti risultati raggiunti dalla Banca Montepruno nel corso dell'anno appena trascorso. La giornata sarà aperta dall'Assemblea dei Soci che si terrà presso la sede di Roscigno. I momenti chiave della serata che si terrà invece presso il Parc Hotel Montpellier a Sassano saranno due, la presentazione del bilancio sociale della banca e la tavola rotonda BCC, banche che contano. Proprio durante la tavola rotonda, i cui lavori saranno moderati dal giornalista Rai Angelo Raffaele Amedio, ci sarà un importante momento di confronto sulla valenza del credito cooperativo. Infatti, oltre al direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese, parteciperanno Franco Vildacci, direttore della Federazione Campana BCC, Antonio Marino, direttore generale della BCC di Aquara, Angelo De Luca, direttore generale della BCC di Buonabitacolo e Stefano Antonello Aumenta, direttore generale della BCC di Sassano. L'incontro permetterà, grazie al contributo e alla disponibilità delle consorelle e della federazione, di analizzare il peso specifico che le BCC hanno sul territorio, facendo emergere la particolarità delle strutture, ma soprattutto la loro volontà di lavorare in sinergia, alla crescita e allo sviluppo dell'economia locale. Il primo bilancio sociale della Banca, invece, verrà presentato da Cono Federico, responsabile area direzione e rappresenta un documento che quantifica ed espone le tante attività sociali svolte dalla Banca nel corso di un anno. Il Montepruno dei, pertanto, metterà in luce alcuni concetti da sempre promossi dalla Banca Montepruno, come la valorizzazione della rete, la diffusione del lavoro di squadra, la condivisione dei risultati e la volontà di crescere insieme al territorio. Ad accompagnare questi importanti momenti ci saranno inoltre le esibizioni di tante espressioni artistiche del Vallo di Diano e dintorni e la presenza di Roberta Morise e Biagio Izzo. Sarà una giornata nella quale la Banca Montepruno condividerà con tutto il territorio la sua crescita, diffondendo il fondamentale messaggio contenuto nella promozione del circuito del progresso, dove lo sviluppo della banca è tale solo sia accompagnato da una parallela crescita dell'intera zona di competenza. Noi abbiamo ascoltato anche la voce della banca con Cono Federico, ascoltiamolo. Quest'anno per la prima volta abbiamo voluto dedicare un intero giorno alla nostra banca attraverso il Montepruno dei, che sarà il prossimo 18 maggio. Quindi si inizia la mattina presso la nostra sede legale di Roscinio, dove si terrà l'annuale assemblea dei soci. Infatti ogni anno i nostri soci vengono chiamati per votare, approvare il bilancio del 2013, che come tutti sanno si è chiuso con un risultato economico veramente soddisfacente di oltre 3 milioni di euro, l'utile più alto di tutta la storia della banca e quindi questo è il momento formale previsto anche dalla legge, nella quale i soci possono prendere atto della bontà, della validità, di tutte le scelte strategiche, del consiglio, della direzione e sul fatto che il nostro modo di fare banca è un modo di fare banca sano, concreto e che comunque porta utili anche alla nostra banca perché la fa crescere. E quindi in questo caso appunto a Roscinio, la mattina alle ore 10, i soci saranno chiamati a votare tutto questo, l'approvazione in realtà del bilancio. Poi abbiamo pensato appunto a questo nuovo evento del pomeriggio al Parco Hotel Montpellier di Sassano, che vuole essere un momento sia formale ma anche un po' più divertente, più rilassante. Durante appunto la serata avremo anzitutto la presentazione del primo bilancio sociale della nostra banca, un riepilogo un po' di tutti gli investimenti notevoli che la banca ha fatto per sostenere le iniziative che sono presenti in tutte le aree in cui opera la nostra banca. Ci saranno poi nel mezzo della serata le esibizioni di tutti i talenti che noi abbiamo appunto portato avanti nel corso dell'anno, i maestri Tramontano di Miele, l'Accademia musicale del Vallo di Diano, l'Accademia appunto dei Flauto e Frutte in Samba del maestro Cimino e poi ci sarà appunto una tavola rotonda economica incentrata fondamentalmente su tematiche economiche che interessano sempre il nostro territorio e alla fine ci sarà uno spettacolo di biagiuizzo che regaleremo appunto a tutti i nostri soci e clienti e amici in realtà che verranno alla serata.